E ora torniamo in Italia con Vittorio Doro, nuove proposte, spazio e giovani qui a TG Nonote. In anteprima ci presenta il suo nuovo lavoro, lui vi diciamo che è stato già una voce dell'orchestra di Sanremo. Vediamo. Vittorio raccontami bene, in realtà non è un debutto perché tu canti con l'orchestra sinfonica di Sanremo già. Sì, diciamo che nel 2008 ho fatto parte della delegazione del comune di Sanremo a rappresentare la musica italiana e russia, quindi il festival di Sanremo. Ho vinto Sanremo Lab come primo classificato. Qual è il tuo sogno, visto che già ne hai fatte e sei giovanissimo? Ma il mio sogno è, insomma, arrivare però facendo della buona musica e trasmettere alle persone qualcosa. Ma stamattina che ti è successo ai capelli? No guarda, stranamente piove, ha piovuto, però sono rimasti sempre così. No guarda, stranamente piove, ha piovuto, però sono rimasti sempre così.